La ringrazio Presidente. Mi collego all'intervento precedente sulla parte del Seveso. Abbiamo affrontato mercoledì scorso, il 25 giugno, una piccola esondazione e abbiamo ovviamente seguito sui giornali la reazione ovviamente della politica e non possiamo che non ribadire le soluzioni tecniche che abbiamo nel corso del tempo suggerito dal Consiglio di Zona 9 e per questo tengo a aggiornare l'Aula sulle nostre proposte e sulla presenza in Consiglio di Zona e del lavoro svolto dal gruppo di attivisti e soprattutto dall'ingegnere La Terza che è il nostro consigliere in zona che si è occupato di regolazioni come ingegnere elettronico dei corsi d'acqua. La piccola esondazione di mercoledì 25 giugno, circa un quarto del potenziale stimato a 4,7 milioni di metri cubi d'acqua, riporta di attualità la denuncia e proposta del Movimento 5 Stelle fatta durante la conferenza dei servizi di dicembre per risolvere le esondazioni e che è stata stroncata come proposta ufficialmente il 28 maggio scorso. In sintesi, il piano approvato per fermare le esondazioni prevede la costruzione di quattro vasche di laminazione a Cesano, Varedo, Paderno e Senago, al costo di 85 milioni di euro. In certi ovviamente i tempi di realizzazione, dato che mancano i soldi, ma è deciso che si comincerà dalla più costosa, la vasca di Senago, situata a 5 chilometri dal Seveso, e questo è un dato fondamentale, con 30 milioni di investimento. Una pioggia di milioni dal nostro punto di vista che aiuterebbero molto di più le lobby ai costruttori che ai cittadini e adesso andiamo a vedere perché. Anche se fosse stata in funzione questa vasca, la vasca di Senago non avrebbe evitato l'esondazione di mercoledì scorso, di solo un milione di metri cubi. Una vasca vicina al letto del fiume invece, per esempio a Paderno, avrebbe evitato l'esondazione e a riprova di questa nostra ipotesi ci sono le notizie che ci siano stati allagamenti a Rho, se avete visto ci sono state riprese anche sui social network di Rho e allagata, dove il CSNO confluisce nel deviatore Olona. Probabilmente la nostra ipotesi è stata spinta al limite della capacità dello scolmatore e del deviatore fino a provocare anche l'esondazione di Rho, ma questo non ha evitato comunque l'esondazione su Milano. Ovviamente ricordiamo che gli scolmatori, le vasche di laminazione non sono una soluzione dal nostro punto di vista ambientalmente e sostenibilmente corretta, ma all'interno comunque di questo dibattito noi ovviamente vogliamo portare un apporto e ragionando pure in questa soluzione innaturale della vasca di laminazione, che tra l'altro utilizzerà pompe, quindi con un costo di corrente elettrica, riteniamo che gli enti regionali stiano dando le priorità ad opere più costose e soprattutto meno efficienti. Il 28 maggio 2014 in Regione Lombardia ha risposto alle nostre osservazioni relative alle vasche di Senago, cioè all'inutilità di questa vasca rispetto a una più vicina al corso del fiume. La Regione giustifica esplicitamente la costruzione della vasca di Senago proprio perché è più lenta nel riempirsi, dato che c'è un canale di 5 km che la collega. La spesa prevista della realizzazione della vasca, come ricordiamo, è di 32 milioni. La vasca realizzata a Paderno, della stessa capacità, potrebbe riempirsi più velocemente, chiaro, perché è attaccata al letto del fiume, quindi evitare le esondazioni come quella di mercoledì scorso improvvise, ma nessuno gli vieterebbe di riempirsi più lentamente con la regolazione. Questo semplicemente per smontare le repliche che Regione Lombardia ha dato come punto di forza della costruzione della vasca di Senago. C'è però una sostanziale differenza tra le due realizzazioni. La vasca realizzata a Paderno-Dugnano costerebbe solo 16 milioni di euro, quasi la metà della realizzazione di quella a Senago, 30. Una vasca come quella di Paderno, tra l'altro, permetterebbe maggiori manovre, per esempio, se si avesse la possibilità e capacità di correlare previsioni del tempo e portate del seveso, si potrebbe fare un ottimo utilizzo della vasca realizzata a Paderno per evitare le esondazioni, soprattutto per quelle più improvvise. Riteniamo che le esondazioni di mercoledì a Milano, e concludo, sarebbe stata gestita totalmente in maniera diversa e avremmo potuto evitare qualunque disagio con una vasca a Paderno, quindi vicino al corso del fiume. Invitiamo ovviamente a guardare bene i grafici e a non farsi forviare dalle spiegazioni che vengono portate avanti da Regione, tra l'altro, unicamente atte a giustificare la scelta che è già stata presa, non è l'unica scelta e ce ne sono altre molto più efficaci. Quindi, chiudendo, noi non possiamo che chiedere al Comune di intervenire e farlo con forza e decisione sul progetto AIPO, che noi riteniamo non sostenibile dal punto di vista ambientale e soprattutto sconveniente dal punto di vista pratico nel confronto di una vasca di laminazione più vicina al corso del fiume e soprattutto più economica, quasi la metà. E ricordo, in conclusione di tutto questo, che il Comune ha già detto di impegnare 30 milioni di euro proprio sulla vasca di Sisenago, quella che dal nostro punto di vista, rispetto ad altre soluzioni, è assolutamente inutile. Grazie, consigliere Calice. Parola al consigliere Lepo.